Sono già 20 gli scienziati italiani che chiedono le dimissioni di Riccardo Villari e del nuovo consiglio di amministrazione di Città della Scienza. Subito dopo la nomina da parte della regione Campania è scoppiata la rivolta dei prof. Secondo loro il neopresidente non avrebbe comprovata esperienza e sufficiente autorevolezza per guidare la fondazione Idis. Nessun nome di matrice politica potrebbe averla e invece Villari è un politico di lungo corso, ex presidente della Commissione di Vigilanza Rai, passato dal PP al CDU, Udeur e Margherita, poi nel PD e da lì in Forza Italia e non si è fatto mancare nulla, nemmeno i radicali e infine il Movimento per le Autonomie. Tra i firmatari dell'Appello studiosi del calibro di Enrico Allevi, Roberto Battiston, Massimo Capaccioli, Ugo Leone, Lorenzo Ciccarese dell'ISPRA, Antonio Ereditato, Roberto Maffei e anche Nicoletta Maraschio, il presidente dell'Accademia della Crusca. In tutti i paesi democratici dicono la scienza ha bisogno di autonomia e merito. Chi dirige deve essere persona esperta e autorevole, conosciuta anche all'estero. Ma De Luca difende la sua scelta. I professori di chiara fama hanno portato al fallimento dell'azienda, ha ricordato il governatore, puntando il dito verso la gestione dell'ex Silvestrini. De Luca ha promesso però un investimento più solido nel lungo periodo su città della scienza, rivendicando il grande sforzo economico che Palazzo Santa Lucia ha già fatto e continuerà a fare per la cultura. Alla fine quello che conta Chiosa lo sceriffo sono i soldi, le banche da pagare e gli stipendi del personale.